La giunta regionale è convocata da esa Presidente Alessandra Tordi e Custo Manzano ad approvato le deliberas. La prima proposta da esa Assessora de esos affares regionales personales riforma Maria Elena Mozzo è su un atto di indirizzo che pertocca a esa procedura a su conferimento de esa Funzione del Direttore Generale. La prima proposta da esa Assessora de esa Programmazione, bilancio, credito e assento de su territorio Giuseppe Meloni che ha atta più su via libera de esa Corte Costituzionale e ha permittere di ponere in su bilancio regionale su dinare necessario prodare sin denidade di amministrazione forestale a sordipendente e come te prevedi su contratto collettivo regionale de traballo de esa amministrazione regionale de esos enter, de esos istitutos, de esas aziendas e de esas agenzie regionales su etres provvedimentos propostos de esa Assessora de esos ente locale Francesco Spaneda permiti de transire vinces a su 31 de maio sa presentazione de esa richiesta de esos contributores de funzionamento in favore de esas compagnia barrazzellarese e chiede appena presentare esos comunese. Sacarovana FLCCGL Prusitele está arribada a Eris Annugoro che in su camper suo in Prata Asatta pro discutere che in suor cittadino se esa spessone esinteressada di autonomia differenziada in s'ambito de su dimensionamento iscolastico Prusannut in Sardigna su obiettivo era de informare suor cittadino supra su profetto de questo provvedimento che di attessere uno disaccato Prusannut a Sardigna mescamenti in ambito iscolastico e su camper a custo serviti. Sa regione nostra ha patito una dispersione iscolastica desas Prusartas in Italia a Nao Emanuela Valurta segretaria generale FLCCGL Sardigna imprubato una percentuale artameda de zomanos que no andanai scola ma mancusi kirkan traballo a regionalizzare esistruzione che renarrere a peyorare esa calidad de desofferta formativa in curricula regionalese e personale redesi scola che incontrato regionalese che anesser differentese desordesure e studi d'Italia Desumate si parres assessora regionale asistruzioni pubbliche l'area Portas Autonomia differenziada Ligata a si scola oggi si va a vedere a dei costi ma però si scola a Sarda andrà bene questa autonomia differenziata? No, non sono pensato che non bandi venivano nuda e anzi si è peggiorata a me questa situazione di questa scola questa scola a Sarda tenere bisogno di una lei speciale posta a Sardegna si deve poter accordare con il suo Stato poi si donare una lei e le condizioni si che sia un taponoso E questa regione ti ha potuto fare? Sicuramente toccano fare una lei ma prima di questa lei toccano intendo tutti i operatori che siano i professori che siano i dirigenti che siano il sindaco e poi fai una collaborazione con il Stato poi fai un accordo finché transitorio fino a poi tenere una lei specifica posta a Sardegna la vostra scola di Sardegna che rende gli specifichi veramente particolari un attento che non pone tempistichinz innanzit della selezione amministrativa ma che richiede questa collaborazione della amministrazione pubblica e della sua cittadinosa e su un appello a questa responsabilità del civile su chi ha fatto il prefetto di Nugoro Giancarlo Dionisi a per indesco il comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica convoca prova a vedare l'attento a danno del municipio di Bosa fatto in su vini chi da colau un uvato che manco male non ha fatto danno ma che offende le istituzioni e le comunità di questa vita a collaborare che rende il finito che fa questa manutenzione adeguata a questo impianto di video sorveglianza che accanto a questo impianto di questo comune di Bosa non funzionante il prefetto Dionisi pedita a cada uno di questa parte sua per tutelare la democrazia e a studiare la forza del sordine che non manda la denanza di queste indagini su questa ghiade la procura Chicarchi cosa non si è andata bene in suo sistema sanitario regionale in sui ultimi anni sono rammai erladinu ispidales appunto malu si struttura d'eccellenza regionale Arnas Brozzu costrinte a tancare sari Annas però non fa che rientrare so spazienti che arrivan da Evora desarea metropolitana de Casteddu progetto sfaraonico che prevede avravicare battoli struttura a Novasa bozzada desa politica regionale in pezza sari Bada sassessore nuovo Armando Bartolazzi costrintù a bozzare sannominare desa dirigente desa azienda sanitaria eris Alessandra toglie in un addobbio di maggioranza in questo regionale affavetao desu pericolo desu commissariamento desu sistema territoriale sul Ministero desa economia e desa salute di maggioranza procedura ergravese su ministro Giorgetti a sutta le neau chiesa sardasa este dai due sannos chi non presenta nasor bilancio su Ministero desa economia e desa finanzia nazionale appusti se star riba su richiamo ufficiale de Agenas s'agenzia desu Ministero desa salute chi valuta ta bozzato promuove teso livello essenziale di assistenza decada regione come toccata sassessore Bartolazzi a piccare in mano sa situazione il funzionario di sufficio desa dogana schien sor finanziere di su comando provinciale de Casteldu cana sequestra o belle duamiza jocatul or frasso sinintri uno container a ribauda esa cina s'attività destinsambiti di su controllo desa merces in trabico in supporto canale de Casteldu chiesa un aumentato a sapusti il desavvio de lineas commerciale Novard A.E.A. su continente africano sor jocatulo sequestra o nuaiana per un'autorizzazione pro reproduire esa marca rappresentada in prur non fini conforme sa sa normas in materia desecureza cavinfatto schenza per una garanzia prosormateriale esos componentes elettricos e elettronicos in preauso s'agenzia desardoganas e sa guardia de vinanzia operana pro contrastare sa commercializzazione del produttor frasso chiesunu ad dannu desa secureza e sa salude desa scusumidorese e desa economia generale grazie a tutti grazie a tutti